Ciao Mannino, ciao Biagio. Buongiorno Graziano, buongiorno. Allora abbiamo anche oggi la possibilità di parlare di cose importanti e interessanti. Beh, una fra tutte, insomma, nelle ultime ore, anche in Friuli Venezia Giulia, è arrivato il famoso ET Alert e qui dovremo aprire delle considerazioni su questa cosa, perché insomma le persone hanno poi reagito in maniera particolarmente diversa e fantasticamente alcuni non hanno ricevuto il messaggio, altri ne hanno ricevuto anche 4 o 5. Insomma, la situazione è un po' caotica da questo punto di vista, tu cosa ne pensi? Ma la situazione è caotica anche perché sostanzialmente noi veniamo da un periodo in cui non gradiamo più avere delle intromissioni indifferentemente in quale percorso che possa essere rappresentato nella nostra quotidianità. So di moltissime persone che una volta ricevuto questo messaggio lo hanno bloccato, disinstallato, seguendo determinate procedure, andando a cercare su internet informazioni non volendone sapere assolutamente, qualcuno addirittura ha cominciato a preoccuparsi, come dire l'alert è stato procurato proprio da ET Alert, perché? Perché veniamo da un periodo, Graziano, difficile e le preoccupazioni su un controllo della nostra vita sono lì presenti. Se vogliamo, il ET Alert nasce su una considerazione che può essere ovviamente utile, un avviso di situazioni emergenziali, ma nel momento in cui si vive un'emergenza continua portata da una confusione generalizzata, in cui qualsiasi notizia diventa motivo di produzione di ansia nei confronti di chi la scorta, è logico che un'iniziativa di questo tipo poi porta sostanzialmente a una reazione anche negativa. Ti ricordi, Graziano, quando iniziava la pandemia l'applicazione Immuni? Ebbene, quella era l'inizio, se vogliamo, di un collegamento tra la vita del cittadino, la tecnologia e tutto ciò che lo circondava. L'applicazione Immuni poi non ebbe assolutamente successo, come a dire che proprio i cittadini poi alla fine non gradiscono delle intromissioni in quell'apparecchio, in quell'apparecchio che appunto ormai siamo abituati e stiamo diventando anche sempre più dipendenti. All'applicazione Immuni ci siamo confrontati col nostro smartphone in maniera molto dura rappresentata appunto dal Green Pass, quello smartphone che diventava l'elemento necessario per poter vivere, per poter entrare nei negozi, per poter entrare in qualsiasi posto, quel visto verde così importante lì stampato, lì presente che andava a dimostrare che eri autorizzato, che avevi seguito determinate linee e potevi essere esentato da restrizioni che invece in molti hanno vissuto. Il T-Alert in questo momento ci riporta alla memoria quel brivido, quella sensazione, quei momenti e quindi la reazione è inevitabile che sia diversificata, diversificata tra chi ha vissuto esperienze difficili e che vede dei collegamenti con questa situazione e chi invece quelle esperienze le ha vissute altrettanto difficili, bisogna sottolinearlo, ma in modo diverso. Quello che però ci pone un interrogativo e questo è fondamentale perché poi a prescindere dalle situazioni, a prescindere dall'intenzione, dalla buona intenzione di creare queste tecnologie, ma il cellulare lo compriamo ciascuno di noi, il cellulare lo paghiamo con i nostri soldi, le bollette del cellulare, gli abbonamenti, le ricariche, queste cose qui le paghiamo con i nostri soldi, di fatto il cellulare è nostro. Allora nel momento in cui ti arriva un qualche cosa forse sarebbe necessario chiederne l'autorizzazione a chi possiede l'apparecchio perché fondamentalmente il T-Alert avrebbe richiesto un'autorizzazione da parte di chi possiede il telefono ad essere inserito in un meccanismo di quotidianità. Insomma, Graziano, stiamo vivendo una situazione complessa. Come dicevamo ieri, ieri parlavamo di tutte le cose che nel mondo accadono. Abbiamo parlato delle guerre, abbiamo parlato delle situazioni, delle cambiamenti climatici che in ogni momento vengono portati alla nostra attenzione. Abbiamo parlato anche di Fukushima, insomma tante cose che ci vengono a creare sostanzialmente una vita di ansia. Una vita di ansia che sembra dopo il 2020 che debba proseguire al punto tale da essere circondati da allarmi che ci generano ancora più attesa. È appunto uno stato di preoccupazione permanente. Ora, se noi andiamo indietro con la memoria, agli anni in cui si vivevano diversamente le situazioni legate anche alle grandi problematiche, pensiamo alle alluvioni, pensiamo a quelle piogge che provocavano dei disastri. A me viene in mente tutte le esperienze che purtroppo la Liguria, la città di Genova in particolare, hanno vissuto pochi anni fa. Ebbene si parlava di altri tipi di problematiche, non di cambiamenti ambientali, ma di debolezza, di fragilità del territorio, di situazioni difficili, di situazioni che hanno portato a una cementificazione che ha provocato danni generalizzati, di situazioni alle quali bisognava provvedere. Ebbene oggi tutto questo è stato messo da parte. Adesso non lo so se il territorio italiano così fragile, soprattutto legato anche ad aspetti importanti per quanto riguarda la storia, la storia dell'arte, l'architettura, insomma lo sappiamo bene che cos'è l'Italia in quest'ambito come patrimonio proprio del contesto globale di quanto appunto l'Italia ha da dare, da offrire, da mostrare, da poter appunto valorizzare. Ebbene in questa situazione improvvisamente tutta quella situazione delle cementificazioni, del territorio fragile, oggi invece viene messa da parte e si parla di cambiamenti climatici e se ne parla in maniera così importante al punto tale da arrivare a dire, a ipotizzare addirittura il reato di negazionismo, di vedere che il cambiamento climatico esista oppure no. Insomma Graziano, il T-Alert rappresenta probabilmente un alert effettivamente che ci sta ponendo ulteriormente a guardare le cose in modo diverso. Decisamente, insomma abbiamo sentito di tutto e di più in questi giorni, staremo a vedere poi come verrà anche utilizzato. Un'altra cosa che mi ha lasciato perplesso, io ad esempio ho trovato all'interno del mio cellulare un'applicazione che evidentemente non ho mai scaricato, che è proprio quella che permette di entrare nel telefonino e di mandare questi messaggi. Ebbene l'ho disattivata, non ero interessato ad ottenere questa cosa, quindi tutto completamente disattivato, ho rifiutato tutto e è arrivato lo stesso. Sono andato alla ricerca ovviamente anch'io in rete, mi sono imbattuto in quello che è un sito molto scarno fra le varie cose di T-Alert dove dice testualmente anche se si rifiuta il messaggio arriva lo stesso. Ed è questo che dà fastidio, no? Cioè dà fastidio questo imporre a tutti i costi. Questo vale anche in questo caso per una cosa che potrebbe essere utile in assoluto, anche se non so quanto utile sia perché non è che questi signori possono pensare in qualche maniera di anticipare un terremoto, no? Cioè tante volte mi può arrivare l'IT-Alert quando il terremoto è già avvenuto e magari ho avuto anche dei danni o dei problemi. Ecco, però il volere a tutti i costi entrare nella proprietà privata che è il cellulare. Esattamente, il discorso è proprio questo, che è un elemento simbolico IT-Alert che ci mostra una visione di una società differente. Il cittadino è libero, il cittadino è padrone della sua vita. Lo ripetiamo, l'esperienza del periodo del governo Draghi in particolare, le restrizioni. Abbiamo vissuto un'esperienza importante, un'esperienza gravissima. Non dobbiamo dimenticarlo. Invece la tendenza in questo momento è quella di rimuovere tutto quello che è accaduto. Ma ricordiamolo, tantissimi milioni di persone in Italia sono rimaste a casa, senza lavoro, senza retribuzioni interdette da tutto. Gli altri ovviamente vincolati da autorizzazioni legate a percorsi vaccinali. Insomma, è stata un'esperienza, come la vogliamo chiamare, congelamento della democrazia. Non lo so, possiamo trovare tantissime definizioni, ma l'esperienza è stata forte al punto tale che adesso qualsiasi iniziativa che possa arrivare non è più gradita. perché è venuta a mancare la fiducia nei confronti del contesto. Le istituzioni in questo momento non sono più viste come erano viste prima. Si è rotto qualche cosa e lo dimostra anche quella relazione fondamentale tra il cittadino e la politica stessa. Il fatto che il numero degli elettori, nelle diverse occasioni elettorali, che siano regionali, che siano nazionali, che siano amministrative, indifferente, stia calando fortemente, è significativo che nei confronti della politica da parte dei cittadini non c'è più fiducia. Questo è il fatto. Ma la politica non sta facendo niente per riconquistare la fiducia dei cittadini. E questo è il problema. Perché già affrontare gli aspetti legati a un calo così importante della partecipazione elettorale invece di mettere da parte e far finta che non succeda niente rappresenterebbe un passo e soprattutto un passo importante prendere coscienza di ciò che è accaduto e parlarne e mantenere la memoria. Ora, non è un discorso che ci porta ad affrontare questi diversi argomenti che sono slegati tra di loro. No, perché, come ti dicevo, quella reazione che in molti hanno avuto rispetto alla ricezione di questo massaggio di fastidio, di opposizione, insomma di un qualche cosa di non gradito, si lega a tutto ciò che è stato precedentemente. Io torno, noi siamo a Trieste e la nostra esperienza ci mostra determinate cose, ma le vicende del 2021-2022 che hanno visto in questa città movimenti, grandi manifestazioni e tanto quanto nella nostra stessa città non è ricordato storicamente come se niente fosse accaduto. Questo è preoccupante perché non deve essere ricordato. Fa parte della storia, non solo di Trieste, ma i riflessi che ci sono stati sono andati in tutto il mondo. Ecco quindi, ritorniamo al punto di partenza. Anche di fronte a iniziative che possono essere potenzialmente buone, ormai non ci si fida più e qualsiasi cosa viene vista in maniera negativa. Siamo arrivati a un punto critico, a un punto critico in cui non si guarda più con fiducia, ma ci si è divisi. E ci si è divisi guardando invece alle diverse situazioni con, diciamo, tra gruppi che credono e gruppi che non credono. Ma di fronte alla realtà, alla quotidianità, a ciò che succede intorno a noi, non si può credere o non credere, ma bisogna vedere i fatti concreti. Le preoccupazioni dalla messaggistica alle tecnologie che abbiamo sempre con noi in tasca, indifferentemente dove, ovviamente ci portano, anche di fronte a delle notizie che stanno diventando sempre più importanti a livello globale, l'OMS, le valutazioni legate ai potetici vaccini obbligatori per potersi muovere da uno stato all'altro. ci troveremo probabilmente blindati nei nostri stati. È un interrogativo che tutti quanti si stanno ponendo, ma non c'è solamente la mobilità in gioco, ma anche le attività legate alle professioni. Insomma, un qualche cosa di incredibile che era inimmaginabile prima del 2020 e tutto ciò che gravita in questa situazione, come detto, viene rifiutato e viene visto come un potenziale pericolo. Effettivamente la situazione è questa, non è una bella situazione e io credo che non porterà niente di buono a livello proprio sociale, perché prima o poi qualcuno, insomma, si incavolerà per tutto quello che sta succedendo. Ma poniamoci anche l'interrogativo, perché di fronte a tutta una situazione di questo tipo ci sono dei problemi che gli italiani stanno vivendo che sono legati a un impoverimento importantissimo. Ci sono degli aumenti di prezzi che hanno qualcosa di incredibile. C'è una perdita di qualità dei prodotti stessi che sono a disposizione per i cittadini, anche prodotti basilari legati proprio all'alimentazione. Stiamo vivendo una situazione veramente difficile, eppure questo non viene affrontato come dovrebbe essere affrontato, perché vedere un impegno, un impegno di un'Italia che ha delle problematiche, delle problematiche legate anche al mondo della sanità, noi vediamo come in Friuli, Venezia e Giulia, rispetto al prima 2020, le cose siano decisamente peggiorate. Oggi per avere un appuntamento in una struttura sanitaria bisogna aspettare anche più di un anno per poterlo avere, cose che erano inimmaginabili prima. Eppure però ci andiamo a inserire in una guerra in Ucraina con ingenti, ingentissimi spese in nome di non si sa bene che cosa, perché lo sappiamo ormai, lo abbiamo ben che capito, come questa guerra sia una guerra che ci danneggia, ma lo sapevamo fin dal principio, ti ricordo di Graziano, come dicevamo è impossibile che una guerra in Ucraina possa scoppiare perché provocherebbe un disastro, eppure scoppiata, il disastro l'ha provocato effettivamente. Allora la confusione generalizzata e come detto le reazioni a qualsiasi cosa di fronte a una struttura che ha perso la fiducia ovviamente non posso essere che questa. Va bene, allora noi avevamo anche altri temi naturalmente, ma io credo che andare a parlare di questa cosa proprio in relazione a quanto succede in questi giorni, in questi test, come si suol dire, come li hanno soprannominati, penso che queste valutazioni erano importanti da fare. Quindi io ti ringrazio Biagio e ti do appuntamento a domani, magari affronteremo tutto quello che abbiamo lasciato alle spalle perché ce ne sono tanti di temi importanti e interessanti. Grazie. Grazie, ciao Graziano.